Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa di fantascienza, che combina magistralmente il genere post-apocalittico con il mistero di un giallo psicologico. La narrazione ti spinge a interrogarti su temi come il controllo, la memoria e la natura umana in situazioni estreme, rendendo questo romanzo non solo avvincente, ma anche intellettualmente stimolante. La trama del libro L'ultimo omicidio alla fine del mondo dello scrittore Stuart Turton, pubblicato dalla casa editrice Neri Pozza, è la seguente. Fuori dall'isola non c'è nulla. Il mondo è stato distrutto da una fitta nebbia che ha invaso il pianeta, devastando tutto e uccidendo qualunque forma di vita. Sull'isola, invece, ogni cosa è idilliaca, la natura è rigogliosa, l'aria pulita e 122 persone vivono in perfetta armonia, sorvegliate da Niema, suo figlio Epaestus e Thea. Tre scienziati che sono stati in grado di proteggere quel luogo paradisiaco dalle insidie esterne. Gli abitanti del villaggio hanno poche pretese, si accontentano di pescare, coltivare i campi e godere dei frutti della terra e se hanno un dubbio possono appellarsi ad Abi. Un'entità che ognuno di loro sente nella propria mente. L'importante è che rispettino sempre il coprifuoco e le regole imposte dagli scienziati. Fino al giorno in cui, con orrore degli isolani, Niema, la scienziata più anziana, viene trovata brutalmente uccisa. Oltre ad aver lasciato l'intera isola sotto shock, l'omicidio ha innescato un abbassamento del sistema di sicurezza intorno all'isola, l'unica cosa che teneva a bada la nebbia. Se il caso non verrà risolto entro 107 ore, la nebbia soffocherà l'isola e tutti i suoi abitanti. Ad aggravare la situazione c'è che il guasto nel sistema ha anche cancellato la memoria di tutti gli abitanti, nessuno ricorda più ciò che è accaduto la notte precedente. Il che significa che qualcuno sull'isola è un assassino e non sa di essere. Nel frattempo, il tempo stringe. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.